Ciao a tutti, l'argomento che volevo trattare oggi era l'allattamento, io purtroppo non l'allatto, sono partita allattando, ho allattato per circa 24-25 giorni, adesso non ricordo bene, e c'ho a causa della mastite. La mastite è una specie di infezione che viene quando si ingorga il latte nel seno e non si riesce a tirar fuori, diventa tutto rosso, fa male, viene la febbre, ecc. Io ero partita abbastanza bene, convinta, carica proprio, il problema era che il bambino era molto pigro, dormiva, non riuscivamo a tenere lo sveglio durante l'allattamento, come si attaccava si addormentava, perché era un bambino molto pacifico, quindi lui si svegliava perché aveva fame, si attaccava un attimo ed era finita lì, quindi poi si attaccava male. Bene Kevin, scusatemi, devo fare il ciuccio. Certo, guarda qua, figli qualcosa. Ok. E niente, quindi mi è venuta sta mastite. Mi è venuta prima da un seno, poi mi è venuta nel secondo seno, poi mi è ritornata nel secondo seno e dopo tutti e due i seni. Una volta che è arrivata a tutti e due i seni era già il quarto antibiotico che prendevo e il latte è stato da andare indietro, praticamente non avevo quasi più niente. Non me ne sono accorta perché, sì, io capivo che il bambino ci metteva di più a ciucciare, infatti lo lasciavo attaccato più tempo quella settimana in cui mi è venuta all'ultimo seno e poi a tutti e due. Però non avrei mai immaginato che il bambino avesse perso 200 grammi in una settimana. Io ero andata a fare la vita di controllo dalla pediatra perché stavamo tenendo sotto controllo il peso perché lui quando è nato era di 3,7 kg. Era di 3,7 kg. Ha avuto il calo fideologico a 3,4 kg e nonostante ciò mi ha fatto ritornare circa due giorni dopo all'ospedale perché loro fanno così, praticamente controllano dopo due giorni che ti hanno dimessa. E abbiamo scoperto che in realtà il bambino era calato altri 100 grammi e mi hanno detto che il calo era troppo. Quindi hanno insistito affinché io tornassi il giorno dopo e mi hanno fatto fare una doppia pesata, ovvero mi hanno fatto pesare prima che mangiasse e dopo aver mangiato. Avevano visto che aveva preso tanto comunque, quindi loro me l'avevano detto che io avevo tanto latte. Poi a causa di questi amostiti e degli antibiotici il latte praticamente è andato via. Sono dovuta quindi passare al latte artificiale, devo dire che non è stato neanche facile, non tanto per il bambino perché il bambino si è adattato benissimo, quanto per me. Perché io ho sempre immaginato di adattare il bambino, volevo... Boh, me ne immaginavo... c'è una cosa più personale, ecco. Tant'è che infatti dopo quando sono dovuta passare al latte artificiale mi sono data come limite, diciamo, che avrei adattato solo io, anche col BioBron, solo io, al massimo il mio compagno. Cioè, per dire, anche i miei genitori, mia suocera, così si erano offerti e io dicevo sempre, no, no, fin quando non ho veramente estremamente bisogno che sono a casa io, voglio darglielo io. Una cosa un po' ridicola, però... Boh, forse perché l'allattamento sede non mi sembrava una cosa talmente personale che mi sono detta, allora faccio l'artificiale ancora solo io. E niente, devo dire che la mazzetta è stata veramente brutta, perché la febbre era alta, arrivava anche a 39,7, io non riuscivo ad alzarmi dal letto, una volta mi sono alzata per andare in bagno, non riuscivo più a tornare dal bagno. Era notte, non riuscivo più a tornare dal bagno, mi alzavo, avevo capito di tipo da venire e mi risiedevo. Sono rimasta in bagno per dire 30 minuti, fin quando finalmente sono riuscita a ritornare in camera. Ma veramente stavo veramente, veramente male. Lì ho avuto la fortuna che ero ancora qui dai miei genitori e mi hanno dato una mano, nel senso mia sorella, mia mamma, ad alzare il bambino. Venivano lì, cioè praticamente sì, io mi svegliavo quando il bambino piangeva, ma la febbre era talmente alta che ero tipo rimbambita praticamente. Allora mi aiutavano a tenerlo, me lo mettevano lì vicino, io lo attaccavo, però all'ultima settimana lo vedevi proprio perché non prendeva più niente. Ho pensato anche di fare un po' e un po', nel senso tipo di giunta, la giunta, però abbiamo visto che la giunta da fare era tanta, perché io ho provato a fare la doppia pesata per uno o due giorni e visto che il bambino da me mangiava veramente poco per dire doveva mangiare, che ne so, 100 grammi, ok? E lui mangiava 20 da me, quindi pochissimo. E quindi niente, fin sono passata proprio all'artificiale. Che diciamo che mi è andata anche di fortuna perché lui ha accettato subito il latte artificiale come se niente fosse. Essendo poi un bambino pigro, anche succhiare, col biberone è molto più semplice perché si attacca, praticamente esce quasi da solo sto latte e quindi gli è andata meglio perché lui, il fatto di dover tirarne dal seno che è più faticoso, a lui non piaceva. Abbiamo avuto solo un piccolo problema con l'aste, io uso il Plasmon 1 e il piccolo problema è stato che dopo un paio di giorni che lo prendeva si è riempito, ma nel giro di due o tre ore, praticamente dopo che l'avevo cambiato, quando lo stavo richiambiando la seconda volta, l'ho spogliato e l'ho trovato completamente tutto pieno di puntini. Sono corsa al pronto soccorso, allora per chiedere perché, come sempre, a noi le cose ci capitano sempre di sabato, che non ci sono né pediatri né dottori, e lì così ci hanno detto che, guardatelo, e lì così ci hanno detto che gli hanno fatto gli esami e tutto, hanno detto che probabilmente è una reazione ritardata del latte, ma comunque era perché il corpo doveva abituarsi, niente di che, infatti, diciamo, per fortuna. Con l'atte in polvere, diciamo, allora, io sì volevo allattare tutto il resto, però diciamo che è una comodità, perché sì e no è una comodità, perché, diciamo che può aiutarti qualcun altro, per esempio il mio compagno può darglielo lui, quindi, per dire, tipo la sera quando lui arriva, può darglielo lui alle otto e nel frattempo posso preparare a mangiare, lavare i piatti, far qualcos'altro. L'allattamento al seno, diciamo che è un po' più comodo sul fatto che lo puoi allattare ovunque. Con il biberon, boh, non ho ancora mai provato a stare in giro negli erari in cui lui deve mangiare. È un po' più scomodo perché devi andare da qualche parte a scaldarlo, sto latte, perché come fai? Non è che lo tiri fuori dal seno ed è già caldo. E niente, questo è soltanto il mio piccolo disagio sull'allattamento artificiale, però è comodo. Ovviamente è più costato che il latte materno, quello sì. Infatti sono, mi sembra, 2,59 euro, 500 ml, quello già liquido pronto. Mentre quello in polvere da 750 grammi dovrebbero essere sui 16 euro, qualcosa del genere. E calcolate che un barattolo, il quale è in polvere, non vi dura neanche una settimana. Perché adesso lui mangia 170 ml di acqua più 5 misurini e mezzo della polvere, praticamente. Scusate se continui a toccarmi i capelli, ma è proprio un vizio. E niente, quindi così. Allora, ci vediamo nel prossimo video e vi saluto anche Kevin, ovviamente. Diciamo che è proprio in catalessi, è partito per la tangente. Ciao! Ciao! Ciao!